Il gelato degli artisti è il gelato dell'elba. Le gelaterie sono a Procchio e a Portoferraio. Un'esplosione di colori ha riempito il caldo pomeriggio di martedì 9 agosto sulla spiaggia di Marina di Campo. Per il secondo anno consecutivo il litorale campese si è trasformato in una coloratissima discoteca a cielo aperto con il Festival Color Flu. A partire dalle prime ore del pomeriggio ragazzi, ma anche bambini e adulti, hanno potuto ballare, divertirsi e farsi truccare dagli esperti messi a disposizione dallo staff dell'evento. La festa è proseguita anche di notte quando i colori, grazie alle luci dell'impianto, sono diventati fluorescenti. Sui social è stato praticamente impossibile non imbattersi in foto dell'evento composto di ragazzi in costume o con una maglietta bianca che amplifica l'effetto delle luci completamente ricoperti di farina colorata. Dato il numeroso afflusso di gente che si è recata a Marina di Campo per partecipare alla festa, possiamo considerare l'evento una grandissima riconferma dello scorso anno. Campo rimane la località preferita per i giorni.